Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Ferraro, ho 16 anni e frequento la classe terza al liceo scientifico di Biella. Ai giochi nazionali estivi Special Olympics gareggerò nel nuoto a Biella. La mia passione allo sport, unita alla mia determinazione e alla forza ricevuta da chi in questi anni ha creduto in me, mi ha permesso di diventare ciò che sono oggi, un'atleta Special Olympics. Biella è la mia città e quindi potrò sentire tutti i miei amici e compagni di scuola fare il tifo per me. Anche quelli che non hanno potuto seguirmi nelle trasferte potranno venire a vedermi. Faccio sport da tanti anni, ma anche quando partiamo in trasferta, noi atleti idealmente ci sentiamo sempre in famiglia, a casa. Quest'anno sarò a casa mia per davvero e spero di fare bella figura.